Si gioca a San Giorgio il derby del campionato nazionale 2018-2019, girone C-Under-15, la Juve Stabbia affronta in casa e parietà della Casertana, squadra in campo partendo dagli ospiti Boragura, Cimino, Molinari, Angella, Vitiello, Zavarone, Delfino, Farinaro, Candia, Cantone, Pucillo e Dori a disposizione di mister Festa, Di Libero, Borelli, Caruso, De Cicco, Evangelista, Esposito, Pianquinto e Picardi. Juve Stabbia in campo con Arichiello, Ventrone, Noviello, Giuppi, Esposito, Marino, Santarpia, Caporusso, Minasi, Di Serio e Casillo a disposizione di mister francese del sorbo, Silenzio, Vitale, Leone, Ruggiero, Carannante, Somma e Balzano. Fischia l'arbitro, dai ragazzi, andiamo a vincere. Sesto minuto sul cronometro, rimessa laterale dalla destra, la palla spiove in area di rigore, Minasi la spizza, parata però dell'estremo difensore della Casertana. Traversione dalla sinistra sul calcio all'angolo, il colpo di testa, la palla sfiora il palo alla sinistra di Bonagura. 23 sul cronometro, azione personale di Pinturicchio, accarezza il pallone con la suola, salta un avversario, il pallone al centro, saltato Bonagura, salva la difesa. Calcio d'angolo dalla sinistra, la Juve Stabbia con il capitano Gennaro Noviello, il traversone sale, Ventrone in cielo, la Juve Stabbia sblocca il risultato, 1-0. Parte subito forte la Juve Stabbia nella ripresa, il pallone di Diserio, per Minasi l'apertura, dalla destra il traversone al centro, l'aggancio di Pinturicchio, 2-0 Juve Stabbia. Destro di controbalzo, la Juve Stabbia si porta sul 2-0 il raddoppio, importante il gol, è di Pinturicchio, 17 marcature in 16 partite. Bonagura pronto al rinvio dal fondo, sbagliando però la palla arriva tra i piedi del calciatore della Juve Stabbia che è di serio, di serio, di prima intenzione, col mancino, secondo palo, 3-0 ed è un gollasso di Pinturicchio che chiude il match, che fissa il punteggio. 3-0 Juve Stabbia, continua a lottare per un posto nei play-off, la formazione di mister francese, l'abbraccio, è di quelli più importanti, vince la Juve Stabbia, continua il sogno, chiamato play-off. Grazie ad una solita esperienza, Paedillima, SRL e Costruzioni si è sempre distinta. nella costruzione di fabbricati civili e commerciali di pregio. Col tempo ha ampliato la propria attività, trasformandosi in una ditta di costruzioni immobiliari, specializzandosi nella realizzazione di edifici residenziali e fabbricati industriali. La Edillima SRL Costruzioni, acquisendo sempre maggiori competenze, ha conquistato il suo punto di forza diventando leader nel settore, con risultati eccezionali per estetica e qualità, lavori accurati e soprattutto rispetto dei tempi di consegna. Edillima SRL Costruzioni di Nicola Imperiale, da oltre 40 anni, al servizio della gente. A Gragnano, in via Castellammare 149, telefono 081 871 5584 oppure 334 26 49 108. Da anni la nostra famiglia pone attenzione e cura in ogni gesto. Ingredienti di prima scelta, esperienza e fantasia, ma soprattutto passione. Pizzeria da Dino a Castellammare di Stabia, dove la pizza sposa una tradizione che dura da generazioni. Un gusto di ottima qualità, pizza, frittura, primi piatti, aperti anche a pranzo, basta provarlo. Pizzeria anche i consegni a domicilio, telefono 081 185 86 067 oppure 333 321 3647. A presto! 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 Una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione. Nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità. Non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stato. Flyline Sport, vestero sport e il tempo libero. Da noi puoi trovare tutto quello che ti serve, le marche più prestigiose, novità di grido, tutto quello che ti occorre per soddisfare i tuoi desideri. Adidas, Nike, Kappa, Puma, Macron e tanti altri. Il nostro marchio ha garanzia dei tuoi acquisti. Lo sport è passione, la passione è lo sport e noi lo sappiamo bene. Vieni a trovarci in Viale Europa 51G a Castellammare di Stabia, Napoli.